Per la prima volta a Rendano di Cosenza va in scena la commedia teatrale Le Lavannare, scritta e diretta da Sergio Crocco, che vede la partecipazione di 30 bambini delle scuole di Cosenza e Rende. Lo spettacolo di solidarietà e festa nasce da un'idea di due associazioni, da una parte la terra di Piero, dall'altra l'associazione infanzia e adolescenza Gianni Rodari, con una finalità precisa, aiutare i bambini meno fortunati della Tanzania. La finalità è molto molto importante, aiutare molti bambini della Repubblica Unita di Tanzania per dare un po' di sollievo a bambini che hanno davvero tanto bisogno. La maggior parte sono affetti dal virus dell'HIV. Bambini cosentini che aiutano bambini, tra di loro si aiutano. È la cosa più bella di tutta la manifestazione. Quindi siamo particolarmente felici di questo connubio tra i bambini cosentini e i bambini tanzaniani, che in fondo hanno il colore della pere diversa, hanno le stesse esigenze, il cibo, il gioco, l'istruzione, ed hanno lo stesso colore del cuore. Noi abbiamo accolto l'appello dell'associazione La Terra di Piero e abbiamo rilanciato perché abbiamo proposto a Sergio Crocco la sua commedia. I protagonisti sono esclusivamente bambini, sono 30 e abbiamo coinvolto le scuole perché pensiamo che i veri ambasciatori di questo messaggio di solidarietà sono proprio i bambini.